Benvenuti in questo 0-100, oggi vi faccio scoprire i pro e contro di questa Q3 Sportback. Prima di continuare però vi ricordo che cliccando qua su in alto a destra potete richiedere un preventivo gratuito su quest'auto e scoprire quanto potete risparmiare su drivekey.it La Q3 Sportback è uno di quei SUV definiti coupé, quindi col posteriore che scende verso il basso, proprio come succede sulle coupé o come succedeva in passato sulle coupé. Questo rende questo Q3 molto più gradevole in questa versione Sportback rispetto alla versione normale, secondo me, voi fatemi sapere la vostra. Gli interni di questa Q3 Sportback sono veramente al top per quel che riguarda la qualità complessiva, soprattutto per i materiali e anche per gli assemblaggi. Qualche accoppiamento però dei materiali plastici soprattutto potrebbe essere migliore, come ad esempio nel caso del volante oppure della plastica nelle maniglie delle portiere. Quindi nel complesso, ripeto, qualità al top, ma ha qualche dettaglio da rivedere. Q3 Sportback significa SUV coupé, quindi al posteriore lo spazio sarà pochissimo per i bagagli, invece no. Se vado ad abbassare il ripiano di carico nella posizione più bassa, ho comunque un'ottima capacità di poter ospitare tutti i bagagli che voglio, quindi avere comunque un'automobile bella da vedere, più piacevole secondo me rispetto alla Q3 normale e anche abbastanza spaziosa al posteriore. Quindi 533 litri permettono di trasportare, direi, tantissima roba senza rinunciare comunque a un design spettacolare. La forma dell'1.8 non aiuta a vedere bene al posteriore, fortuna che c'è la telecamera che risolve tutto. Rispetto alla Q3 normale la Sportback si guida meglio, a mio avviso al posteriore la sento più composta. In effetti il posteriore più basso aiuta ad abbassare proprio il baricentro, quindi la vettura si guida comunque molto bene, oltre che al comfort c'è anche un po' di sportività, chiaramente parliamo sempre di un SUV, pertanto è un SUV sportivo, non un'autosportiva. Attenzione a come poi vengono classificate queste cose. Nella parte centrale i portoggetti non sono tanti, sia qua, qui piccolino, giusto il cellulare. E poi nella parte centrale abbiamo un portoggetti con un vano, anche qui piccolino, ma quello più piccolo di tutti è proprio qua. Abbiamo davvero poco spazio a disposizione. Ci stanno giusti i documenti e poco altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un mi piace e a non perdere la nostra recensione completa, che arriverà tra poche ore sul nostro canale YouTube. Ci vediamo alla prossima, sempre in questo DriveK. Ciao! Ciao!